Abbiamo una grande opportunità costituita dai fondi del Recovery Fund e non possiamo sprecarla, ha dichiarato il presidente della terza commissione regionale speciale aree interne, Michele Cammarano. Per questo ho voluto arricchire la commissione che presiedo con competenze specifiche, individuando sei campi tematici che saranno oggetto dei lavori di rispettive sottocommissioni. Sanità, trasporti e mobilità, istruzione e formazione professionale, agricoltura, caccia e pesca, ambiente e territorio, attività economiche e turismo. Chiunque, ha detto Cammarano, voglia mettere a disposizione della sua terra le proprie competenze e le conoscenze del territorio e delle sue criticità potrà dare la sua disponibilità a far parte della commissione aree interne e lavorare al fianco dei suoi membri con l'obiettivo di produrre proposte e idee per migliorare la quantità e la qualità dei servizi in ogni ambito. Il tutto è totalmente a titolo gratuito. Puntiamo a ricevere dei contributi di chi non solo ha competenze tecniche e che vive le aree interne non solo in Campania ma in tutta Italia. Vogliamo creare nuovi modelli di sviluppo. Ha terminato Cammarano, restando radicati alle nostre tradizioni e alla storia delle comunità, offrendo opportunità alle nuove generazioni e servizi efficienti ai residenti.